Stava attraversando la strada appoggiato al suo carrellino in centro a Vazzola e la sua vita è finita lì, sotto le ruote di un camion che non si è accorto di lui e l'ha travolto trascinandolo a qualche metro dalle strisce pedonali. E' morto così Sergio Zanchetta, 87 anni, operaio in pensione, residente a poca distanza dal luogo della tragedia, via Cesare Battisti. L'anziano era molto conosciuto in paese, nonostante l'età e gli acciacchi che lo costringevano a muoversi con il deambulatore, Zanchetta usciva tutti i giorni di casa per andare a comprare il pane o fare due chiacchiere al centro anziani. E così stamane, come tutte le altre mattine, l'uomo era andato a comprare il pane e stava probabilmente rincasando. Sono le 10 e un quarto, in via Cesare Battisti, la trafficatissima arteria principale di Vazzola, c'è una lunga coda di auto e mezzi pesanti fermi al semaforo, in attesa del verde. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Zanchetta inizia ad attraversare, passando tra due camion fermi, vicinissimo, al muso del tir. Dall'alto della cabina l'autista, un 45enne veneziano, non lo vede e quando scatta il verde innesta la prima e parte. A quel punto, nonostante le urla di alcuni passanti, per Zanchetta non c'è nulla da fare. Nonostante la velocità bassissima del camion, l'anziano viene travolto e resta esanime sull'asfalto. Al suo fianco ancora in piedi il deambulatore con il sacchetto del pane nel cestino. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. La data dei funerali non è ancora stata fissata.